B come buon bere. Sono 71 le cantine marchigiane che proporranno per gli amanti del buon bere degustazioni di vino, visite nelle cantine, nelle vigne, mostre d'arte, incontri e musica. Per questi due giorni, sabato 24 e domenica 25 maggio, per cantine aperte. Sono pronti 14.000 bicchieri. Ce ne parla Serenella Morodar, che è il presidente del Movimento del Turismo del Vino delle Marche. Numeri importanti, soprattutto perché ormai da qualche anno abbiamo deciso, come Movimento del Turismo del Vino Marche, di raddoppiare la giornata di cantine aperte. Dunque, non soltanto la domenica, perché ormai lo sapete, cantine aperte è l'ultima domenica di maggio, e dunque i numeri sono importanti anche perché le presenze non sono autoctone. vengono da fuori. Movimento turismo del vino. Dunque, pensiamo che il vino scateni, e lo dico in maniera brutale, è il secondo motivo di turismo, il vino. E quindi scateni curiosità, interesse e dunque spostamenti, e quindi turismo, in realtà che sono legate al territorio e quindi non si possono delocalizzare. Fanno appassionare chi viene a scoprire questi luoghi e lo fanno ritornare un'altra volta. In questa occasione vengono a visitare le nostre cantine anche turisti da fuori regione, e il flusso è in aumento. Quest'anno però il Movimento Turismo Vino lamenta l'assenza della regione. Ho vestito il ruolo di assessore al turismo, dunque i numeri che dico non sono casuali. E allora il fatto che questa regione stia puntando e sul turismo e sulle eccellenze enogastronomiche mi ha fatto rimanere quanto meno male per il fatto stesso di non aver avuto nessuna risposta dopo 21 anni di cantine aperte. Grazie! Grazie!